Buonasera a tutti, eccoci arrivati al classico webinar di trading insieme a DG. Come sapete io sono Arduino Schenato dal sito hereforex.com, siamo online dal 2010, da tanti anni, da quasi altrettanti anni collaboriamo con DG per l'aspetto didattico e ogni mese, come sapete, ormai veramente da un sacco di tempo, facciamo questi webinar dedicati ad alcune modalità, approcci operativi che noi di Artforex abbiamo sul mercato delle valute ma non solo. Tendenzialmente quello su cui andiamo a discutere è sempre il trading attraverso lo studio della price action. Allora vedo che c'è già un bel po' di gente questa sera collegata anche nomi che non conosco e quindi bene, quindi ecco, per chi non mi conoscesse può andare a vedere il sito hereforex, poi magari ve lo mostro, e il canale YouTube, quindi dove vengono ovviamente così trasmesse un po' le nostre operatività, i nostri metodi di lavoro. Oggi in linea generale andrò proprio anche a spiegare indirettamente e direttamente i motivi che mi spingono a fare un certo determinato trading, proprio perché l'argomento di oggi è forse uno dei più attuali per chi opera sui mercati. Si parla oggi di, beh, fino a poco tempo fa si parlava molto di più di pandemia, covid e queste cose qua, ma da un po' di tempo a questa parte, soprattutto per noi trader, quindi comunque chi investe e quindi guarda ogni giorno i mercati, ovviamente c'è un ingrediente che è questa situazione particolare geopolitica che conosciamo tutti, che può portare a chi fa trading a un certo livello di incertezza e quindi ecco, oggi mi piaceva con voi fare una discussione su questo, anche un po' per andare a sdoganare quelle che sono certe credenze riguardo l'operatività sui mercati di breve e medio termine, perché vi dico la verità, io ormai faccio trading da moltissimi anni di situazioni particolari di tutti i tipi, no? Lehman Brothers, piuttosto che il problema Grecia, Euro e tutte queste cose, il covid, poi adesso appunto la guerra Russia-Ucraina, insomma ne abbiamo viste particolarmente tante, quindi in linea generale posso affermare che l'approccio che oggi cercherò di darvi come spunto è un approccio che posso dire vincente, poi è ovvio che io come dico sempre il trading è molto personale, quindi oggi io dirò delle cose che sono esperienza mia, sono personali, potrebbe essere che alcuni altri trader guardino altre determinate cose oppure fanno affidamento o pesino di più determinate cose rispetto a me, questo non significa che loro sbagliano e io dico giusto o il contrario, diciamo che nella propria esperienza ogni trader professionista ha inserito le proprie armi per stare a tema nella propria borsa, nel proprio bagaglio operativo giornaliero e quindi io oggi esporrò quello che è un po' la mia visione allora salutiamo un po' di gente, intanto vedo che state arrivando state arrivando pian piano un po' tutti, vedo anche dei nomi noti quindi bene, buonasera a tutti, dai noti ai meno noti qualcuno che sta salutando qui lo conosco Andrea, Marco, Stefano, Vincenzo poi abbiamo altri insomma che vedo che stanno salutando bene, allora tema abbiamo detto tema di oggi importante, molto importante abbiamo dato questo tema trading sul forex, come operare quando il mercato è incerto in realtà si può mettere e inserire più che trading sui mercati come operare quando il mercato è incerto poi sapete che io da tanti anni faccio il forex ma direi che possiamo ampliare diciamo anche il nostro webinar oggi allora ci sono due tipi di incertezza possiamo dire sul mercato, sui mercati finanziari poi arrivo Claudio anche vedendo proprio alcuni mercati in particolare tu adesso stai parlando di dollaro yen per esempio ma facciamo poi degli esempi anche come io approccio il mercato ma prima volevo fare un preambolo che è questo allora il mercato è incerto ci sono due tipi diciamo così di incertezza se vogliamo dire così in realtà poi è tutto interconnesso però il primo la prima incertezza si potrebbe avere il trader potrebbe avere incertezza perché in realtà poi il mercato non è mai incerto se ci pensate il mercato segue dei trend che possono essere più o meno di lunga durata quindi possono durare qualche giorno come qualche settimana addirittura qualche mese chi è incerto in realtà siamo noi quindi qui faccio uno spunto che quando facciamo trading diciamo che non andiamo a combattere contro il mercato a volte sento e leggo perché dobbiamo battere il mercato non battiamo niente perché l'unica cosa su cui andiamo a scontrarci ci sono quelle che sono le nostre i nostri comportamenti a volte sbagliati no? le nostre atteggiamenti che possono essere sbagliati o meno nel mercato ed è questo che io dico sempre quindi l'incertezza non è tanto sui mercati ma è più nostra che poi dopo andiamo a tramandare diciamo al mercato stesso quindi attenzione a suddividere le cose il mercato può essere incerto come dicevo prima magari per una per una situazione che vediamo più sui grafici che è la seconda che è quella dove noi notiamo per esempio non so un trading range una situazione particolarmente laterale ma se vogliamo parlare di mercati sono incerti sono incerti perché perché magari la situazione per esempio in questo momento geopolitica potrebbe far creare dei trend di breve magari long per un momento poi short per un altro momento e ancora long per un altro momento e ancora short quindi diventerebbe questa incertezza andrebbe poi a diciamo imprimersi un po' sul mercato se noi prendiamo per esempio l'euro dollaro in questo caso e prendiamo da inizio anno quindi siamo praticamente questo è il grafico che vedete da inizio anno cosa notiamo? notiamo la certezza qui non c'è non notiamo incertezza sul mercato notiamo una certezza cioè cosa notiamo? notiamo una tendenza molto chiara short no? quindi non è tanto non c'è incertezza qui chiamiamolo così la possibile incertezza che decisioni situazioni possono avvenire di giorno in giorno possono si possono andare a portare sul mercato qui io non la vedo no? cioè noi notiamo un mercato assolutamente in in tendenza short no? come tra l'altro oggi ho aperto un trade piccolino sull'S&P500 eccolo qua sono entrato lungo con un contratto mini quindi oggi l'S&P vale 4550 io sono entrato leggermente più su a 4573 quindi ho comprato 4573 euro di S&P no? un euro a punto quindi perfettamente a 4573 quindi io in questo momento diciamo la mia idea di trading è quella di un mercato che può continuare il suo rialzo non ho ancora inserito uno stop bene o male probabilmente il mio stop andrebbe un po' a fallire nel momento in cui scendiamo su certi determinati livelli di struttura ma questo non è il trader non voglio mostrarvi adesso il trader che ho fatto ma qui cosa notiamo? notiamo sempre da inizio anno che cosa? guardate un movimento short questo è l'inizio anno 2022 parte qui un movimento bellissimo di trend short per noi trader ok? e adesso siamo in un bellissimo trend long quindi per noi che facciamo trading l'incertezza esiste davvero o esiste perché ce la inculcano tra telegiornali news messaggi insomma anche a livello proprio di come dire di siti legati proprio alla finanza all'economia eccetera comunque del settore cioè c'è questa situazione particolare questa però in questo momento nell'ottica di trading ha influito magari sì può aver influito sicuramente ha influito ma noi che facciamo trading abbiamo un'incertezza su questo mercato o c'è qualcosa di certo? io vedo qualcosa di certo ovviamente come dicevo prima e per cui l'ho fatto quell'introduzione io la vedo da trader che fa price action e segue l'andamento dei prezzi quindi quello che io vado a fare è esclusivamente cercare di trovare una struttura e quella struttura tradarla vado su Euro Canada per esempio io su Euro Canada ho un trade short da qualche giorno l'ho aperto venerdì l'ho condiviso tra l'altro come anche l'S&P con gli utenti che sono iscritti al pacchetto Platinum al servizio Platinum per chi non lo conoscesse poi ve lo faccio vedere sul sito YAR Forex ecco anche qui voi guardiamo guardiamo anche qui il mercato Euro Canada è un cross un cross valutario che è formato da Euro dollaro e Dollar Canada andiamo sempre da inizio anno qui siamo a febbraio questo è gennaio eccolo qua guardate qua gennaio parte da qui cosa notiamo qui? notiamo certezza o incertezza io noto certezza io noto un mercato completamente in tendenza short non ci sono dubbi che il mercato è in tendenza short quindi ancora vi faccio la domanda è un mercato incerto o quello che adesso ve le faccio vedere altri di mercati o poi l'incertezza sale su di noi perché diamo retta troppo a quello che leggiamo ascoltiamo e quindi il fatto di essere poi incerti nel nostro trading perché abbiamo una come dire un approccio più mentale che è incerto proprio dovuto a questo se noi esempio fossimo sordi da quello che può avvenire questo è quello che per chi fa price action io dico sempre cerchiamo di benissimo informarsi rimanere connessi conoscere il mercato noi facciamo anche trading sui titoli singoli quindi c'è il mio collega Sasha che spesso va a fare analisi anche di potenziali trade un po' più di medio termine perché magari l'azienda che vai a comprare è sana eccetera però poi alla fine quello che conta è dove sta andando il mercato e se facciamo trading quindi facciamo un tipo di investimenti di breve termine che cosa significa breve termine per me significa qualche giorno qualche settimana allora a quel punto il mercato è così indeciso o segue dei trend particolari io al momento vi ho fatto vedere Eurodollaro vi ho fatto vedere standard poor quindi il benchmark azionario di mercato americano vi faccio vedere Eurocanada anche un cross un cross che è un incrocio tra dollaro canada euro dollar cioè il prezzo che si viene a formare di questo cross è il prezzo che è il prodotto di dollaro canada euro dollaro no e vedo sempre un trend molto chiaro vi faccio vedere anche la sterlina su cui anche qui ho un ordine pendente in questo caso che non mi è ancora stato eseguito l'ho inserito stamattina con tutta calma e vedremo se sarò eseguito anche qui io noto dei bellissimi trend ho noto un movimento già da inizio anno short poi un ritracciamento una fase laterale adesso qui arrivo e poi un movimento di trend chiaro con anche degli spunti operativi qui per esempio oppure qui io questo per esempio settimana scorsa o comunque dieci giorni fa quando si è creato l'ho tradato addirittura poi mi sono chiuso qui adesso sto cercando di rientrare per un altro movimento di tendenza anche qui domanda il mercato è davvero così incerto come operare quando il mercato è incerto o quando siamo noi incerti era un altro discorso quello lì cioè nel momento in cui noi ci sentiamo sul mercato un po' più incerti per qualsiasi motivo allora ecco che arrivo alla domanda o comunque all'affermazione più che la domanda di Andrea che tra l'altro è anche un platinato è scritto al platinum dice ma quando il mercato è incerto non è meglio stare fermi eccolo lì allora è il mercato che è incerto o siamo noi che siamo incerti per qualsiasi cosa a volte possiamo non capire no? quello che sta accadendo in un mercato e quindi non avere una più chiara a volte invece e più spesso è così ci arrivano siamo completamente bombardati no? da notizie da cose per esempio ero a Investing Roma a Investing Napoli scusate l'altro venerdì tra l'altro quando ho aperto anche la posizione su Euro Canada e ricordo che un utente un trader che è venuto a vedere il mio primo intervento mi ha fatto una domanda dicendo oggi ci sono i no far payroll stavo parlando di euro dollaro e mi ha chiesto come potrebbe andare a influenzare il dato ecco vedete questa cosa qui cioè il fatto di essere così come dire attivi nelle notizie sapere perché poi nel mercato se voi voi bene o male penso facciate un po' tutti i trading no? o comunque vi state approcciando avrete capito che il mercato è ricolmo di dati macroeconomici di notizie sui titoli dati macroeconomici notizie sulle possibili politiche monetarie e un sacco di cose tutte queste cose che escono costantemente dai vari siti Reuters Bloomberg eccetera eccetera che cosa vanno? vanno a darci sempre più informazioni che per carità voglio dire poi il mercato che ragiona non tanto sul dato stesso ma su quello che quel dato secondo loro potrebbe andare a impattare sul mercato quindi sull'opinione di chi investe su un determinato mercato è una continua un continuo bombardare di queste notizie crea poi il fattore inverso cioè il fatto che siccome ci sono i no far pay rolls quindi per chi non lo sapesse è il dato disoccupazionale americano più importante quindi tasso di occupazione e numero di nuovi posti di lavoro del settore non agricolo degli Stati Uniti si sono creati e ecco questo dato importante che può creare volatilità come può anche non crearla no? e se io vado a prendere euro dollaro venerdì ha creato volatilità questo è venerdì 1 aprile no però sono influenzato da questo e quindi mi faccio mi crea un indecisione poi il mercato è indeciso tante volte mi viene mi ricordo quando ancora dieci anni fa ormai perché ormai i forum del trading con tutti i social non ci sono più ma io ricordo i forum no? che è un po' più vecchiotto qui si che ha iniziato a fare trading da un po' da almeno dieci annetti si ricorderà i forum del trading e mi ricordo c'era tutta questa cosa delle notizie no? esce questo dato piuttosto che l'idea su un certo dato su una certa politica monetaria o il fatto che magari un'azienda debba fare non so un'operazione straordinaria eccetera eccetera si per carità possono creare movimento ma io devo ragionare in base a quello che sono i flussi di mercato sono i flussi di tendenza dove vanno gli interessi di chi investe su quel mercato per esempio questo grafico euro-dollaro gli interessi adesso sul mercato di euro-dollaro dove stanno andando? sul dollaro americano no? non sull'euro cioè il mercato a me non interessa che sia chi sia non mi interessa il perché io faccio trading a me interessa essere dalla parte giusta questo è poi ripeto possiamo parlare di tutto quello che vogliamo possiamo mettere le nostre idee sul mercato ma come diceva un famoso trader non sono state mai le mie idee a farmi guadagnare nel trading ma è stato sempre quello di aver fatto quello che ho visto quello che il mercato mi ha detto e ho optato per operare in quel senso ecco questa è la morale diciamo quindi ecco la riflessione che voglio farvi fare oggi è incertezza sul mercato benissimo ci potrebbe essere incertezza bene questo è un periodo storico dove l'incertezza in effetti può esserci no? perché in effetti possono esserci tra politiche monetarie di un certo tipo date da un momento pensiamo all'inflazione no? americana e non solo anche europea quindi politiche monetarie che stanno cambiando più ci mettiamo anche un fattore geopolitico importante come quello Ucraina-Russia è ovvio che l'incertezza può andare a no? esserci sul mercato cioè ci possono essere dei trend long e short ma noi che facciamo trading in realtà quello che stiamo vedendo in questo momento è un mercato incerto questo qui è l'euro-dollaro uno dei mercati il mercato maggiore per scambi anche dei mercati azionari questo è lo standard and pull 500 è un mercato che ha avuto dei trend short long perfetto ma io posso prendervi tutto quello che volete beh beh ovvio il Nasdaq eh short long posso prendere magari un altro indice prendiamo l'Italia l'Italia eccola qui l'indice italiano il Fuzzimib probabilmente qualcuno di voi lo trada o comunque lo segue anche perché se fate qualche titolo italiano come me io comunque seguo sempre anche un po' l'andamento dell'indice guardate qua da inizio anno ha creato una fase di trend molto bella un ritracciamento un'altra ulteriore fase di trend dopo una lateralità e poi adesso ha creato una fase di trend in salita quindi adesso i ribassi sono da comprare stop non è che ci sia cioè per fare trading non dobbiamo chissà fare che cosa dobbiamo cercare di seguire il flusso ovviamente con i nostri segnali con il nostro metodo con un money management adeguato e ci sono tutti i vari ingredienti ma se noi andiamo ad ascoltare cercare di farci un'idea sempre di quello perché abbiamo ascoltato una cosa e quindi operiamo in base a quella cosa vi assicuro che non è facile anche perché poi subiamo appunto il fattore incertezza ma non è il mercato che è incerto siamo noi ad essere incerti e è ovvio che poi siccome il mercato ripeto è un come dicevo prima non è che andiamo sul mercato a battere il mercato ma siamo noi stessi lì e se tradiamo male viene fuori tutto quello che siamo vi assicuro il mercato è molto noi stessi tant'è che io dico sempre che bisogna studiare bene chi siamo quando si fa trading cercare di capirci bene cercare di conoscerci di conoscere anche un po' i nostri limiti e cercare un po' su quelli di lavorare per migliorare poi l'aspetto anche del trading nella gestione emotiva della propria azienda di trading e poi quindi anche la gestione emotiva si rifà sulla gestione comportamentale quindi la gestione proprio dei nostri trade chiudere non chiudere come dire tenere basse le perdite cercare di gestire bene i profitti cercare di non reagire di emotività ma cercare di ragionare quindi faccio una scelta se ho in mente una scelta da fare magari stiamo un paio d'ore a rifletterci magari a volte anche una giornata intera e magari la scelta la facciamo verso sera o il giorno dopo meglio ancora cioè tutte queste dinamiche creano poi il trader vincente l'indecisione e quindi l'incertezza spesso non è derivante dai mercati cioè i mercati possono far fare questo ma se guardate anche qui il mercato tende ad avere dei trend questo è l'Italia l'indice italiano la borsa di Milano quindi piazza affari diciamo quindi ecco che anche qui abbiamo dei trend che poi possiamo sfruttare o meno cioè in questo caso il mercato che ritornava long aspettiamo che il mercato si costruisca una tendenza long magari riniziamo a cercare di comprare quando il mercato riprende certi livelli per esempio oppure quando il mercato inizia a scendere questo per forza non dobbiamo prenderlo ma magari quando il mercato dopo aver fatto una pausa ed ecco qui questa è chiamiamola così l'incertezza invece reale del mercato cioè quando il mercato crea dei trading range dei range dove non c'è adesso ve ne faccio vedere un altro dove non c'è una vera e propria tendenza il mercato scende al di sotto crea dei nostri segnali questo è un FTV quindi uno dei miei classici trigger ecco possiamo decidere o meno di fare il trade short oppure aspettare ancora e magari prendere altri spunti per uno short ma cerchiamo di reagire rispetto a quello che vediamo e assicuro che è vincente ovviamente bisogna crearsi un'esperienza su questo cercare di crearsi un metodo un vestito e continuare a come dire perseverare su quello perché se un giorno seguiamo le medie mobili il giorno dopo perché abbiamo perso soldi andiamo a seguire l'ICMoku poi l'altro giorno seguiamo i volumi poi perdiamo ancora e seguiamo la price action ma poi perdiamo ancora e quindi andiamo a non so dove è ovvio che voi potete avere 5, 6, 10 anni di esperienza nel trading ma ogni anno avete cambiato strategia è ovvio che siete esperti di tutto e siete esperti di niente dobbiamo cercare poi una volta che si capisce cosa vogliamo dal trading cercare di essere perseveranti cercare di andare a lavorare su un certo tipo di metodo ed ecco faccio una breve pausa su questo prima vi dicevo del nostro sito per chi non ci conosce ecco questo è il sito nostro se volete darci un occhio si chiama hereforex.com siamo online dal 2010 io ancora prima con il blog ma il sito questo qui è dal 2010 dentro ci sono un sacco di post di blog del blog che stiamo facendo con ottimi articoli gratuiti che potete andare a leggere e poi avete tutti i servizi come quelli del platinum e di stock inside che è invece il servizio azionario poi ovviamente da qui potete andare direttamente sul canale youtube e seguire tutti i video che facciamo sul canale youtube così vi ho fatto vedere anche questo per chi non ci conoscesse ho detto anche chi siamo avete capito? quindi il mercato in realtà non ci dà indecisione al massimo quando ci dà indecisione è quando crea incertezza indecisione incertezza quando crea dei mini range quando quindi il prezzo bene o male inizia a muoversi a ping pong da una parte all'altra per il resto non perché i mercati ci dicono che i mercati sono incerti per una certa situazione che poi devono per forza essere incerti io qui incertezza non ne vedo ok? per esempio invece un mercato che in questo momento è incerto ma è lui ed è incerto in questo momento è indeciso è per esempio l'oro l'oro che negli ultimi tempi ha un aspettate faccio così eccolo qua ah vedete una price action che ci sta indicando che cosa un non trend cioè da molti giorni da almeno 5 giorni e qui è molti di più che il mercato rimane all'interno di pochi punti quindi questo è un mercato indeciso incerto se vogliamo ok? quindi per operare qui ecco Andrea che diceva prima è meglio stare fermi sì è meglio stare fermi oppure operare ci sono due modi o operare nella parte alta o nella parte bassa qualora ci dovessero essere dei segnali di trading penso per esempio a una falsa rottura al rialzo rientrata o una falsa rottura al ribasso rientrata e lavorare di brevissimo con obiettivo all'altra parte del range no? o come è successo qui però non è tanto il mio con dei trading range così stretti oppure aspettare che il mercato scenda e rompa in chiusura giornaliera questa fase che con solidi al di sotto ci dia un segnale e magari ci faccia fare un trading trend o al contrario rompa al di sopra con solidi al di sopra ci dia un segnale long e poi allora si può tradare allora io in quel caso sono un trader incerto o no? io vado sulla ovviamente virgolettata certezza che il mercato abbia iniziato una tendenza sapendo che il mercato è comunque di certo non c'è nulla no? ovviamente però chi fa trading deve avere una certa sicurezza e vi assicuro che essere sicuri di quello che si fa non voglio dire che è già a metà del lavoro ma quasi ok? nel trading quindi essere ben come dire avere un approccio che conosciamo bene e avere un'esperienza dedicata a quell'approccio vedrete che nel tempo sapete cosa volete vedere io per esempio questo mercato ve l'ho tirato fuori subito è un mercato che seguo anche questo giornalmente come gli altri Eurodollaro S&P la stralina Eurocanada questi qui è ovvio che so già che finché il mercato non mi dà una chiara fuoriuscita per esempio in questo caso da questo range per me diciamo che al momento è abbastanza difficile lavorare a meno che non mi faccia appunto quello che dicevo prima un ottimo segnale long sulla parte bassa o short sulla parte alta quel punto lo potrei prendere in considerazione però vedete che c'è sempre una cosa certa diciamo in una situazione in questo caso di incertezza ma per me è incertezza non perché i telegiornali i giornali anche del settore mi stanno continuando a dire e a sparare ogni volta il mercato è in una situazione di incertezza perché dall'Ucraina può essere una cosa perché la Russia può dire un'altra cosa perché arriva fuori l'America perché questo perché quello poi io mi faccio tante no e mi creo delle congetture sul mercato che poi alla fine lasciano un po' il tempo che trovano e addirittura poi operare su quelle diventa anche un po' incertezza oppure l'amico mi ha detto che quel l'esperto di trading gli ha detto che siccome la Russia fa questo o l'Ucrania fa quell'altro l'America questo conviene shortare piuttosto che andare long cioè dove vogliamo andare allora poi lì diventiamo anche insicuri incerti e il nostro trading sarà per forza un scusate la parola un casino ok un disastro bene allora andiamo a vedere un po' io ho visto che qualcuno ha scritto qualcosa Claudio scriveva correlazione con euro yen dollaro yen però intanto c'era anche Giorgio che diceva in questa fase di mercato su maggiori cross valutari ci sono dei time frame particolari da considerare piuttosto che altri che suggerisci beh io qui sfondo una porta aperta ovviamente Giorgio tu sai che io opero non so se lo sai ma te lo dico io opero esclusivamente su daily daily è settimanale quindi faccio operatività da daily a settimanale tra l'altro guardate il settimanale è stato rotto i minimi adesso guardate che linearità guardate qua ragazzi cioè stiamo su un mercato che in realtà già da gennaio 2021 ma se vogliamo prendere proprio l'ultimo massimo che poi ha creato ritracciamenti non troppo forti sul mercato cioè siamo da maggio 2021 che l'euro dollaro ripeto anche prima gennaio 2021 ma da ormai più di un anno che il mercato praticamente è in trend short vedete quando avete un po' di incertezza quando non sapete bene prendete un biografico weekly invece di abbassare il time frame alzatelo anche qui faccio una parentesi molti trader anche professionisti come me non saranno d'accordo con quello che dico ma io vi racconto la mia esperienza io i soldi li metto sul mercato ogni giorno da tanti anni e questa è la mia esperienza poi ci possono essere esperienze diverse non per forza la mia è giusta l'altra è sbagliata o l'altra è sbagliata e l'altra è giusta e la mia è sbagliata no il mercato è personale poi il trading è personale per me se avete e trovate una fase di mercato incerta oppure secondo voi un mercato non lo capite molto bene piuttosto di abbassare il time frame alzatelo non abbassatelo alzatelo questo è il mio consiglio alzate il time frame perché andare su un grafico a un'ora quando potete lavorare su un bel grafico daily che vi dà la contrattazione di una giornata di variate giornate che vi dice quindi in quella candela o in quelle svariate candele cos'è avvenuto tra compratori e venditori dove lì dentro ci sono banche ci sono banche commerciali banche d'affari banche centrali ci sono fondi ci sono i trader più o meno capitalizzati c'è di tutto ci sono news speculazioni non speculazioni euforia panico c'è tutto in quella giornata in quella settimana voi provate a pensare guardate qui che bel grafico lineare questo qui è l'euro dollar cosa posso fare io qui posso solo andare short ne ho avuto anche un bellissimo segnale poi tra l'altro in area 1.11 ancora viene giovedì e ha confermato il weekly cosa dobbiamo fare di andare long sul mercato del genere spero proprio di no il weekly ragazzi andate a vedere il weekly l'euro canada che ho fatto io tra l'altro euro canada guardate il weekly basta che andate su weekly cosa devo fare io devo andare long no ovviamente devo aspettare i momenti giusti quelli che vi ho fatto vedere su daily ma poi cercherò degli short vedete quanto diventa più semplice andare non andiamo a incasinarci la vita sterlina su cui ho fatto già un trade short qui negli ultimi giorni ne sto facendo un altro se mi prende l'ordine guardate qua settimanale un mercato del genere cosa si deve fare devo andare long sul mercato del genere no poi ci sono gli stop vedete io qui c'ho uno stop loss qua sopra nel caso in cui mi prenda e ritorno indietro rapidamente la mia posizione verrà chiusa in stop ovviamente è uno stop che ho programmato che ho riflettuto su questo su quanto stoppare questi 273 dollari pari a 250 euro io li ho già nel momento in cui andrò a essere eseguito li ho già accettati come rischio è un po' come un commerciante penso che quando inizio il mercato quella soglia di rischio che ho voluto inserire nel trade è la merce che ho acquistato ho fatto magazzino e l'ho già acquistata ok l'ho già spesa poi potrei magari perdere un po' meno perché magari riesco a gestire meglio la perdita o guadagnare o andare a break even a quel punto avrò venduto la mia merce che ho comprato allo stesso prezzo che l'ho venduta perché ho fatto uno sconto al mio cliente e sono rientrato dello stesso prezzo cioè ragioniamo da imprenditori ovviamente da commercianti la parola trader significa commerciante quindi quando noi guardiamo il mercato in maniera non troppo senza incasinarci la vita senza farci anche troppe analisi over trading e over analyzing diciamo che tutte e due sono quindi fare un'analisi talmente analisi sopra l'analisi sopra l'analisi che poi gli americani dicono che ti fai freeze nella mano cioè ti si ghiaccia la mano non riesci più a muoverti cioè non riesci più a cliccare perché hai talmente tante analisi che dici boh cosa succede adesso devo aspettare questo poi quell'altro poi ancora quell'altro però voglio anche quell'altro che mi dica così e poi alla fine non tradi non operi oppure over trading il contrario cioè bam 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 sparare 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 e operare per vendetta queste cose qui che anche queste non vanno bene siamo tranquilli c'è una bella tendenza il mercato è messo così ci ha dato un buon segnale e io opero nella tendenza di fondo quindi se la domanda di Giorgio era quale time frame io mantengo sempre questi time frame nella mia attività di trading da sempre praticamente weekly che è la mia bussola e daily che è il mio timing di entrata Matteo dice ciao puoi andare sul time frame orario ha reagito ora da un supporto a 19.20 lo compreresti io sul time frame orario Matteo purtroppo per fortuna non ci vado quindi mi spiace ma non lo voglio neanche vedere il time frame orario quindi per me no per me non vale niente il time frame orario non mi dice nulla ok Matteo per me non è un'informazione dove posso metterci dei soldi ok al massimo vado su 4 ore qui lo dico nel momento in cui sul daily ci sono ovviamente arrivati dal settimanale sul daily ci sono delle chiare indicazioni di una certa cosa allora posso decidere in qualche caso di vedermi a 4 ore ma se vi devo consigliare anche 4 ore non usatelo andate su weekly daily usate quei due time frame che sono più che abbastanza ok l'informazione derivante dai prezzi sul grafico sotto questo quindi per esempio un'ora per me non vale nulla ok bene sono le 18.40 ragazzi avete altre domande su questo approccio operativo e su questa visione dell'incertezza e insicurezza del mercato magari vi ho un po' spiazzato oggi però così magari vi do anche un punto di vista un po' differente da un trader professionista che fa da tanti anni trading e ripeto che mette ogni giorno i suoi soldi sul mercato su svariati mercati vediamo se c'è qualche altra domanda altrimenti ci possiamo salutare per questa sera aspetto un altro minutino e poi e poi vediamo insomma no allora tutto molto chiaro dice Alessandro che poi insomma è un platinato e mi conosce grande Alessandro Gabriele dice possiamo vedere Neozelanda va bene però dimmi dimmi che cosa vuoi vedere su Neozelanda più che altro ok che sembra oggi faccio un segnale diverso da quello che pensavamo vediamo vediamo andiamo a vedere Neozelanda boom eccolo qua oh bellissimo bellissimo allora guarda qua anche qui mercato è long qui no mercato è un mercato long un mercato che ottimo ottimo esempio Gabriele io su questo vi faccio vedere una cosa perché voglio farvi vedere una cosa perché è giusto che così capite bene capiate bene usiamo i giusti verbi perché sennò poi mi dicono che non parlo bene mia moglie soprattutto allora andiamo a vedere dov'è chi è qua se lo trovo subito report settimanale 3 aprile non voglio spoilerarvi troppo perché non mi sembra giusto nei confronti dei platinati ma io ogni fine settimana vi faccio vedere faccio questo report a chi è iscritto al platinum no e faccio questo report su svariati mercati tra cui il neozelanda dollaro allora vi faccio vedere ed è una cosa vi faccio vedere ecco anche per che ha tema anche per non avere questa sorta di incertezza e insicurezza nel tradare il mercato questo è un modo per non avere incertezza e insicurezza cioè quale modo il fatto che ogni fine settimana dobbiate farvi un'analisi e uno schema operativo ok quindi a fine settimana voi a fine settimana dovete andare a farvi un report vostro io lo dico a tutti i platinum io lo mando ai platinum ma voglio che lo facciano sempre perché questo un po' alla volta vi porta a crearvi l'abitudine di farvi un piano per la settimana ok quindi analisi solo weekly e daily non sotto mi raccomando time frame più sotto sono time frame creati dall'uomo per creare ordine nel disordine cosa vuol dire una candela a un'ora cosa chiude cosa chiude chiude niente cosa chiude una candela a 30 minuti a 5 minuti chiude niente ma niente quella a 4 ore quella daily chiude una sessione giornaliera quella settimanale chiude una sessione settimanale ecco che hanno peso allora se io devo investire dei soldi nel breve termine li investo su delle informazioni sane non su delle informazioni forvianti ok quindi cosa faccio a fine settimana neozelanda dollaro direzione long price action indecision bar su weekly piano struttura ancora long con indecision bar su weekly rispetto a australia sembra più pronto per un'ulteriore spinta verso l'alto due punti in questo caso per i prossimi giorni cercherò opportunità long tra i livelli attuali 0,68 e 30 vedete quindi qui cercherò un'operatività long non mi si è formata per me l'operatività long che io volevo non mi si è formato un segnale long che io volevo quindi ovviamente per operare devo avere un tipo di trigger come lo chiamo io quindi di segnale di trading che per me abbia senso andare a tradare quindi che mi dica bene adesso riparte il trading in realtà poi in questi giorni cioè tra ieri e oggi se vogliamo si è venuto a creare un ulteriore movimento long molto forte e quest'oggi sembra essere risucchiato quindi per esempio se io mi fossi messo long qui facciamo un esempio proprio io mi sono messo long perché qui c'è un FTV per esempio che mi piaceva benissimo sono long sono ancora long e magari ho uno stop di stop loss diciamo di posizione magari qui cioè il mercato va qui e stop benissimo succede questo guardiamo cosa succede nel breve la struttura in questo caso diventa un mini range cioè potrebbe riportare i prezzi giù allora però ovviamente questo deve essere concluso quindi devo aspettare almeno questa sera intorno alle 10 prima di effettuare qualche cambio o addirittura al mattino successivo quindi domani ok domani mattina presto quindi che cosa succede qui succede che se io opero end of day a fine giornata sono entrato qui e noto una situazione del genere e chi è platinum con me lo sa io se noto uno svuotamento così entro la serata quindi magari alle 9 9 e mezza di stasera siamo ancora messi così cosa faccio esco esco e rivaluto poi nei giorni successivi perché ovviamente il mio trading comunque giornaliero deve essere un seguire quello che il mercato mi dice giorno in giorno ma vedi non sono entrato su una di emotività su un'idea che tizio caio mi ha detto mi ha fatto capire quindi per me alloesso il mercato deve girare perché il mercato ha dato troppo piuttosto perché c'è la guerra o per qualsiasi o perché in neozelanda abbassa i tassi piuttosto che alza i tassi qualsiasi cosa io ovviamente mi solamente quando il prezzo mi dice qualcosa faccio quindi utilizzo i dati di fatto per operare sul mercato tanti anni fa mi ricordo feci un video che aveva come titolo trading sui dati di fatto cioè la price action quello che mi sta dicendo il mercato quello che sta avvenendo oggi è la forza venditrice che dopo una grande spinta rialzista è venuta a farsi sentire potrebbe riportare il neozelanda sui livelli che ho detto a fine settimana 68 e mezza poi qua ci dà un altro segnale di trend long allora conviene uscire qui e magari se dovesse fare questa cosa qui e dovesse qui ricrearci una tendenza long un segnale long rientrare ok questo è un po' il mio modo di fare trading ok in questa fase o in una fase possibile di incertezza questo per esempio è un buon modo per ecco una buona domanda quella di Gabriele che mi fa fare anche un esempio più pratico diciamo nel trading ok dollaro yen in correlazione con euro yen ma cosa significa Claudio per l'argomento non ho capito sull'argomento che cosa vuoi dirmi Claudio cioè l'argomento è come operare quando il mercato è incerto il mercato di euro yen e dollaro yen sono certi nel senso che sono stati super long quindi non vedo non vedo incertezza su quelli no cioè assolutamente non vedo incertezze sono dollaro yen addirittura avevo il long sopra i massimi eccolo qua guardate qua cioè questo è un ftv power euro yen pure era super long anche lui adesso stiamo aspettando un nuovo segnale non c'è incertezza lì no ok c'è stato un ritracciamento appunto per andare lunghi no Claudio quindi trend long euro yen dollaro yen bisogna aspettare i ritracciamenti per andare lunghi ok in questo momento bene ok Luca dice un consiglio per incominciare a tradare materie prime oro argento palladio rame eccetera grazie un consiglio è quello prima di tutto prima di tradare impara e acquisisci competenze conoscenze e guarda sulla carta il mercato quindi magari non fare subito operazioni ma magari cerca di fare quello che viene chiamato paper trading quindi magari segnati dove vorresti entrare cosa vorresti fare creati un piano di trading e poi magari inizi con alcune materie prime e poi vai sulle altre perché materie prime ce ne sono talmente tante e quindi devi un attimo cercare di inizia con magari l'oro l'argento il petrolio quelle un po' più importanti e poi vai un po' anche sulle altre no? quelle che hai citato tu Giuseppe dice anche io ti volevo chiedere una cosa su dollaro yen ora quasi tutti staranno vendendo per esperienza come si compra il mercato cosa significa quello che hai detto ora quasi tutti staranno vendendo per esperienza come si compra il mercato ma ti dico la mia insomma su dollaro yen come ti ho detto per me qui è un long era un long sopra i massimi a 123 qui sopra l'FTV e potremmo andare tranquillamente anche un po' verso i 126 prima di un massimo arrotondato ulteriore quindi come si comporta il mercato si comporta assolutamente che continua la fase di trend ok quindi noi dobbiamo assolutamente rispettare le tendenze mi raccomando la cosa non voglio dire più facile perché sapete il mercato non è sempre facile non è mai facile ok diventa semplice nel momento in cui lo sappiamo sappiamo gestirci e sappiamo leggerlo e sappiamo entrare nei momenti giusti sappiamo uscire nel momento giusto quando un mercato è così in tendenza l'idea è quella di seguire la tendenza cioè inutile andare contro ok si va contro quando il mercato ci dà dei chiari segnali contro anche nel breve termine per me breve termine grafico giornaliero ok Giuseppe quindi in linea generale anche qui insomma per me è assolutamente un'idea long tant'è che vi faccio vedere così finiamo anche il mio programma di fine settimana programma di lezione long pin bar short su week e ftv power long su daily dicevo questo sentite cosa dicevo a fine settimana che c'era questo ho fatto questa analisi il cambio è ancora in trend long ma produce una pin bar short che può creare inversione nel breve per la settimana rimarrò aperto a posizionamenti long short in base alla price action abbiamo una ftv power su daily che alla sua convalida potrebbe portare su nuovamente i prezzi mentre il breakout al ribasso della ftv quindi qui diventa anche la convalida della pin bar week personalmente allo short preferisco il long della ftv quanti trader si saranno messi in vendita sul cambio nell'ultima settimana credo moltissimi ecco perché la possibilità di vedere un ulteriore allungo è molto probabile interessante situazione quindi da osservare nei primi giorni della settimana martedì boom rialzo sopra i massi va bene bene allora ragazzi sono le 18.50 io vi devo lasciare vi auguro una bellissima serata vi ricordo il sito ealforex.com se volete andare ad approfondire le nostre tra l'altro abbiamo le due guide gratuite il nostro metodo abbiamo la guida sulla price action end of day trading e la guida sul trading in azione quindi andate a scaricare entrambe sono molto molto belle e poi abbiamo tutte le varie cose insomma quindi seguiteci anche sui vari social su youtube mettete mi piace seguite un po' il canale e grazie io vi vi auguro un buon trading simple una buona settimana per qualsiasi cosa scrivete ovviamente qui c'è il whatsapp potete scrivere direttamente su whatsapp e vi possiamo rispondere prestissimo grazie a tutti un buon trading e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti grazie a tutti